I did all alright Had no need to fight Tonight tonight Well ragazzi qui siamo ben trovati nel mio canale Siamo nel settimo episodio di Crash Bandicoot E secondo me siamo quasi la fine Non vorrei dire ragazzi Proviamo ad andare del The Great Hall Vedere che cosa succede e poi dopo Credo che ci sia il finale ragazzi Con Nitro Cortex Quindi secondo me oggi potremmo già Yes What the fuck Shit! Quindi mi sa che oggi Cominciamo anche Crash Bandicoot 2 ragazzi Non lo so vediamo come va Dottor Neo Cortex vediamo signori Come va la cosa e come sarà da affrontare Secondo me non sarà semplice Non me lo ricordo io Ok Guarda che spettacolo raga Va via Ok Probabilmente bisognerà evitare questi E poi questo si colpisce Questo ragazzi lo so Perché c'era scritto nei suggerimenti prima Ok Occhio però qua adesso Orco 2 Mamma mia Ho già finito le vite Ho già finito le vite Ma stai scherzando un minuto e trenta di registrazione Oh Grande Dai adesso va quella raffica raga Merda Ok l'ultima Com'è l'ultima Com'è l'ultima raga non ci sono mai arrivato fin qua Oh Così semplicissimo l'ultimo Grande Sì ce l'ho fatta Ho finito Crash Bandicoot 1 raga Ho finito il primo signori Crash Bandicoot 1 finisce qua Adesso passiamo subito al 2 Senza ingiugi infatti mi troverò messo veramente poco Due sclerate basta Adesso andiamo a vedere il Crash Bandicoot 2 com'è raga Perché secondo me questo me lo ricordo meglio Eh sì Ok Crash Bandicoot 2 si chiama Cortex Strikes Back Quindi sicuramente ci sarà la rivincita La vendetta Di Cortex Vediamo come sarà questa storia Prima è stata molto semplice ragazzi Contate che è una rimasterizzazione di un gioco di anni 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 fa eh Anche questo però sono un po' più fiducioso Mi ricordo che il 2 mi è piaciuto di più Quindi secondo me questo è ancora più figo Nooo Oh Ahahahah Cristalli Ma certo Nooo Nooo Basta il suo cristallo, ci servono i venticinque cristalli normali sparsi sulla superficie Ma... come faremo per raccoglierli? Non abbiamo più agenti sulla terra! Posso! Pensi che non sia al corrente della situazione? Se non abbiamo più alleati sulla superficie dovremo trovare un nemico Crash! 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 La mia batteria è andata! Renditi utile e portamene una nuova, fratellone! Andiamo! Via! Ok, qua mi ricordo che c'è anche l'accovacciarsi, raga Questo qua, ok? Si accovaccia, perfetto, guardatemi Bugoda! Ok, non c'è solo più la rotolazione, avviso? C'è anche l'accovacciarsi Ottimo Ricordiamoci solo, raga, che se lo facciamo mentre siamo in volo si vola giù tranquillamente Ok? Bugoda! Oddio, c'è un portale qui? La stanza del teletrasporto Raga, ma... Ma qual era quel crash dove c'erano tutti i mondi? Ah no, quello era la CTR Dove entravi nei mondi e c'era tipo la gara, mamma mia che figata Allora, forse anche questo Bene, bene, bene Crash Bandicoot, benvenuto Mi scuso per il rozzo trattamento che ti è stato riservato Ma temevo che un invito scritto non sarebbe bastato Mi serve il tuo aiuto Intorno a te ci sono cinque porte Ciascuna nasconde un cristallo Simile a questo Portami i cristalli, Crash Per ora è tutto Ci rivedremo presto Ti devo portare i cristalli, ho capito Ok, andiamo in Turtle Woods Non so perché All'inizio mi ispira di più questo Però, ragazzi, non so se sono difficoltà diverse Credo di sì, eh Penso che ci sia quella meno semplice Ma posso essere capitato anche quella più difficile Non mi ricordo, eh Non mi ricordo sinceramente Ok, in tutto questo mia sorellina dov'è? Ok No, questa è molto semplice, raga Non è di quelli difficili Mi sa, eh Ultime parole famose Checkpoint Ok, raga, a questo bisogna stare attenti, eh Perché non ci si può Non si può scivolare su di lui, eh Neanche darci la... Ah, c'è qui Perché è il punto interrogativo Ah, è bonus, ok Ok, mamma mia Meno male No, raga, mi sembra cagato addosso Sì, su con le vite, dai Ok Qua si affoga, mi sa, eh, raga All right All right Mamma mia che bella la schiacciata Eeeh Via Oh, oh Ah, le talpe Ah, che sfiga Potevo farmi tutto il coso così Vabbè Ok Ok, che figata sta roba dei funghi Eh, qua bisogna fare così Il cristallo l'ho preso intanto È tutto, cioè, ovviamente non è tutto uguale a Crash Bandicoot 1, raga, con... 34 su 62 Perché? Dove le ho perse le altre? Comunque vi stavo dicendo, non è uguale al primo, eh Ci sono nemici diversi, ci sono percorsi diversi È molto più bello il due, ragazzi Il due deve essere veramente goduto ed è... credo che sia anche molto più difficile Bel fatto Crash Sapevo di potermi fidare Ora apri le orecchie Questi ologrammi non durano molto Durante le mie ricerche ho scoperto una forza sconosciuta Che minaccia il nostro mondo Solo i cristalli possono contenerla C'è in gioco il futuro del mondo Devi assolutamente trovarli E portarmi Ok Crash, mi senti? Crash? Crash? Ci sei Crash? Crash, mi senti? No, Crash non parla comunque Andiamo in snow go Andiamo dove c'è la nieva C'è la nieva Ok, la novità di questo è che ci sono i nitro Che non si possono assolutamente toccare Neanche darci la... come si chiama? Questi fanno le giravolte anche loro, eh, raga Oh! Qua c'è il ghiaccio E' vero che qua devo scivolare Oh! Mamma mia! Che provato ho fatto raga Qua bisogna star niente, non bisogna toccarli Non bisogna toccarli Uh! Non bisogna toccarli raga, eh, che scoppiano Ok Ok No! Piano Questa volta l'ho visto Eh Porca puttanaccia Occhio Crash Qua devo fare con le scivolate raga Che mi fa andare sotto? C'è qualcosa sotto raga Eh sì Ma mia che figata Il due raga Eh eh A me piace tantissimo il due No, non riesco a prendere quello Ah, che sfiga Sì, invece Preso, 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 preso Scivolata nel ghiaccio E salto Vale molto di più del... Del salto vasta, eh Si va molto più lunghi raga Quindi ricordiamocelo Oh, c'ho i pinguini là, eh Ok Eh raga, la scivolata qua è fortissima, eh Poi soprattutto all'inizio dove ti... Ti spingono a farla Per farti capire che esiste Comunque 55 su 74 Ancora merda ragazzi, eh Mamma mia Ok Questo comunque è il primo mondo Dove ci sono tante meditazioni diverse Livelli molto semplici Poi ci sarà il secondo mondo Un po' come il primo, dai Hangate L'importante è prendere tutti i cristalli, ragazzi Ce n'è uno a livello, come ha detto bene Il nostro caro amico Cortex All'inizio del nostro percorso Ok, occhio questo che viene su e giù Vabbè Vabbè raga dai E buttarvi alle vite così Proprio... Solo io, eh Ok, abbiamo il bulugda Checkpoint Eccola roba lì Non mi dire No raga, no Vabbè Occio, eh Lui si scatta Ok Ok Mamma mia che bellezza Eh, queste raga erano l'epoca dei videogiochi Di quando dal primo al secondo c'era una differenza incredibile Ci sono gli ipopotami Ecco Devo saltarci meglio Ok Mi ha preso il nostro diamantino Occio che siccome si cazza Nooo Nooo No, morì così Gabby squirting Raga ho già perso tre vite qua Non c'è bisogno di far tutto di fretta Molto con calma È una calma abbastanza veloce Ok, quindi è un po' Paradosso Ma che si accelera così Ma che si accelera No, la rampa Oh Ormai prendevo la bomba raga Pronti? Via No Occhio Ok Mamma mia raga Quei motoscaffoli è bellissimo Se poi ci sono Ragazzi i veicoli su sto gioco qua sono fatti troppo bene Mamma mia Crash Bandico 2 ragazzi Mi verrebbe voglia di fare già anche il prossimo ragazzi Ma non lo so Non lo so Non lo so, penso che per oggi finisca qua signori Arriviamo, cerchiamo di arrivare almeno a 20.000 like per Crash Bandico 2 ragazzi Se volete ancora vedere tutto questo È importante C'è un filmato Tre cristalli? Niente male Vedo che inizi a prenderci la mano Devo risparmiare energia Ci risentiremo quando avrai trovato il quinto cristallo Eh sì ragazzi Sì Ora Ci sarà il The Pizz E il Crash Dash Oh mio dio Signori io vi saluto bene Grazie a tutti per il supporto Io salvo adesso In modo tale da Non far casotti Mi raccomando signori 20-25.000 like se avrete a vedere anche tutto Crash Bandico 2 Signori Qui da Gabbo di Square è tutto Bella raga But then now they always say congratulations Worked so hard forgot how to vacation They ain't never had the dedication People hating say we changing loop we made it Yeah we made it